L'associazione Insieme per Piazzo si è battuta per anni per la salvaguardia del territorio di Piazzo che ha portato al riconoscimento da parte della provincia del parco di interesse sovracomunale. Ci sono novità come l'ampliamento del parco che ora fa parte di una zona protetta regionale. Al presidente dell'associazione Insieme per Piazzo, Gian Mario Locatelli, chiediamo di indicare gli ultimi sviluppi di questo ampliamento. Ecco, dopo circa 16 anni abbiamo avuto la soddisfazione della prima cosa che ci eravamo prefissati, cioè la salvaguardia del territorio di Piazzo che in pratica è stata convalidata in questi ultimi tempi anche dalla provincia unificando sia il territorio di Nembro con quello di Albino che è pari a circa 576 ettari di terreno. 500 su Nembro, 76 su Albino che andrà difeso dall'edificazione e da tutto quello che potrà stravolgere sia l'ambiente e sia tutto l'insieme poi del territorio. Queste novità hanno portato a ulteriori miglioramenti del parco? Intanto i miglioramenti del parco non ci sono stati, bisogna aspettare nel futuro che ci sia o un privato o qualcun altro che sia ad opere per la riqualificazione del territorio, specialmente sul territorio di Albino che adesso si è insilverticchito dato l'abbandono dei contadini e anche dell'agricoltura che in qualche modo è stata abbandonata. Quindi di fatto la zona agricola a Piazzo non esiste più? E come dice lei a Piazzo la zona agricola soltanto per qualche privato in minima parte adesso non esiste più. E le cascine? Le cascine sono in abbandono, speriamo che anche con quelle qualcuno si adopera per riqualificarle o magari fare qualcosa per almeno tenerle su perché altrimenti cadono tutte se lo lasciamo in questo abbandono. Un ampio servizio sulla situazione del parco di interesse sovracomunale andrà in onda nel settimanale Target in programma nei prossimi giorni. Da Albino, lì nello studio.